Le mafie cambiano pelle, centri di affari, modalità organizzative si insinuano nelle attività legali e ogni sottovalutazione può aprire varchi alla penetrazione criminale, ma si possono sconfiggere. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Pier Santi, ucciso da Cosa Nostra a Palermo nel 1980. Tanti i gonfaloni dei comuni di tutta Italia che sono arrivati a Napoli. In marcia anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, che ha posto l'attenzione sulla necessità di investire sui giovani e il lavoro. La mafia, le criminalità organizzate, la camorra, noi dobbiamo metterle al centro sempre di un'agenda politica fin quando questo fenomeno orribile non sarà sconfitto e dobbiamo investire soprattutto sui giovani. Oggi la presenza dei giovani, la presenza di tante persone che si sono impegnate in organizzare questa giornata denota che ci sono tante persone che lavorano per la giustizia, per la legalità e per il benessere sociale. Presente anche l'ex Premier e il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, che esprime preoccupazione per le infiltrazioni mafiose negli appalti del PNRR. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, non possiamo permettere che i soldi, gli investimenti del PNRR, ma anche tutti gli altri investimenti, vadano nel circuito dell'illegalità e ci siano infettazioni mafiose. In testa al corteo, il sindaco Gaetano Manfredi, orgoglioso di una città che ci mette la faccia ed esprime voglia di lottare contro il malaffare e la violenza. Questo è un messaggio che mandiamo a tutta l'Italia, di una città in prima linea che vuole voltare sempre pagine, guardare oltre, mettendo al centro la legalità e i diritti.